Rai, Radio 1 Saremo appunto noi di GR1 Radio 1 a seguire questa manifestazione a dare il via alle 9.30 e poi a seguire Gian Mario Missaglia per parlare insieme con noi di Vivi Città I piedi saranno tanti perché noi pensiamo a 50.000 persone che partiranno tutte alla stessa ora domenica alle 9.30 Può partecipare chi vuole perché può essere anche non competitivo È naturale, infatti questo è uno dei nostri caratteri principali Vincenzo Manco, presidente UISP, non è la prima volta di Vivi Città in carcere Dopo aver celebrato i nostri 30 anni di Vivi Città abbiamo fatto un punto di riflessione pensando a come si potesse dopo 30 anni rilanciare l'idea dell'Iviscità e delle grandi iniziative della UISP in genere Vivere la città, questo è lo slogan vero di questa manifestazione Siamo sulle 100.000 persone Vivi Città partecipano tutti, anche le famiglie quindi diciamo è la vera corsa per tutti Vivi Città è una maratona in contemporanea in 30 città italiane e per dare il via a 30 città italiane è quale miglior mezzo della radio Siamo sulle 100.000 persone